Benvenuti a questo video dedicato alla vita e alla carriera del leggendario cantautore italiano Gino Paoli. Esploreremo insieme la sua storia e scopriremo alcuni dettagli interessanti che ne hanno caratterizzato il percorso. Gino Paoli è nato nel 1934 a Monfalcone, in Italia. Fin da giovane ha mostrato una grande passione per la musica e ha iniziato a suonare il pianoforte e la chitarra sin dall'infanzia. Paoli ha fatto il suo debutto nel mondo della musica negli anni 50, ottenendo subito un grande successo con le sue prime canzoni. Il suo stile unico e le sue intense performance dal vivo lo hanno reso rapidamente uno dei cantautori più amati d'Italia. Nel corso della sua carriera, Paoli ha scritto e interpretato numerosi successi, tra cui Sapore di sale e Il cielo in una stanza, che sono diventati dei veri e propri classici della musica italiana. Ha anche collaborato con altri artisti di fama internazionale, contribuendo a diffondere la sua musica oltre i confini nazionali. Paoli è stato anche un fervente sostenitore di cause sociali e politiche. Ha partecipato attivamente a movimenti per i diritti civili e ha utilizzato la sua voce e la sua fama per sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni importanti come la pace e la giustizia. Sociali. Gino Paoli è noto per la sua personalità carismatica e il suo spirito libero. È sempre stato un uomo di grande talento e sensibilità artistica, ma anche di grande umanità e generosità verso i suoi fan e coloro che lo hanno incontrato lungo il suo cammino. Nel corso della sua carriera, Paoli ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo contributo alla musica italiana. Incluso il premio Tenko e il David di Donatello per la sua colonna sonora per il film Risate di Gioia. Ecco quindi un breve ritratto della vita e della carriera di Gino Paoli. Un artista che ha lasciato un'impronta indelebile sulla musica italiana e che continua a essere amato e apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo. La sua storia ci ricorda il potere della musica nel connetterci e nel toccare le corde più profonde delle nostre emozioni. Benvenuti a questo video dedicato alla vita e alla carriera del leggendario cantautore italiano Gino Paoli. Esploreremo insieme la sua storia e scopriremo alcuni dettagli interessanti che ne hanno caratterizzato il percorso. Gino Paoli è nato nel 1934 a Monfalcone, in Italia. Fin da giovane ha mostrato una grande passione per la musica e ha iniziato a suonare il pianoforte e la chitarra sin dall'infanzia. Paoli ha fatto il suo debutto nel mondo della musica negli anni 50, ottenendo subito un grande successo con le sue prime canzoni. Il suo stile unico e le sue intense performance dal vivo lo hanno reso rapidamente uno dei cantautori più amati d'Italia. Nel corso della sua carriera, Paoli ha scritto e interpretato numerosi successi, tra cui Sapore di sale e Il cielo in una stanza, che sono diventati dei veri e propri classici della musica italiana. Ha anche collaborato con altri artisti di fama internazionale, contribuendo a diffondere la sua musica oltre i confini nazionali. Paoli è stato anche un fervente sostenitore di cause sociali e politiche. Ha partecipato attivamente a movimenti per i diritti civili e ha utilizzato la sua voce e la sua fama per sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni importanti come la pace e la giustizia. Sociale. Gino Paoli è noto per la sua personalità carismatica e il suo spirito libero. È sempre stato un uomo di grande talento e sensibilità artistica, ma anche di grande umanità e generosità verso i suoi fan e coloro che lo hanno incontrato lungo il suo cammino. Nel corso della sua carriera, Paoli ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo contributo alla musica italiana. Incluso il premio Tenko e il David di Donatello per la sua colonna sonora per il film Risate di Gioia. Ecco quindi un breve ritratto della vita e della carriera di Gino Paoli. Un artista che ha lasciato un'impronta indelebile sulla musica italiana e che continua a essere amato e apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo. La sua storia ci ricorda il potere della musica nel connetterci e nel toccare le corde più profonde delle nostre emozioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.